Siamo fortemente contrari, a nostro avviso è una norma che va ritirata. Non risolve nessun problema se non ulteriormente aggredire, ad esempio, le aree verdi. Immaginate soltanto cosa possa determinare questa norma a puntaderci a basto, piuttosto quale impatto possa avere in alcune città molto importanti. Già si è svuotata, per esempio, Chiti Alta, e io credo che questa norma contribuirebbe di molto ulteriormente a desertificare la città nel punto ovviamente storico della città stessa. Così come noi riteniamo che aggredire le aree verdi e anche consortili sia un altro grave errore e non c'è bisogno, infine, di ulteriori centri commerciali. Questo è già tra le regioni in Europa che ha più centri commerciali. Non vedo l'esigenza di doverne introdurre di nuovi. Peraltro per desertificare ulteriormente una parte del nostro tessuto produttivo e produrre purtroppo soltanto lavoro precario e mal retribuito.